Ciao ragazzi, ce li siamo eh! Per chi non mi conosce, sono Nico Girardi da squadra speciale con un'altra rogna da risolvere. Stavolta mi hanno dato sto bestione qua, fanno a sistemare un omicidio che è successo sull'autostrada del sole. Tutte le rogne mi danno a me, rogne e medaglia. La prima medaglia mi hanno dato quando facevo parte della squadra anti-scippo, poi dalla squadra anti-truffa, dalla squadra anti-furto, dalla squadra anti-mafia. Poi quando io ho risolto quel fattaccio là sul tivere. Pinna, non spara, che son Nico! Che non mi riconosci? E' proprio perché te riconosco che te sparo! Poi quando mi hanno mandato a Milano a risolvere delitto a Porta Romana. Scusi signor, mi dispiace. Ancora? Stavo a seguire la macchina d'assassino, mica è colpa mia se questa stronza si è messa a mezzo. Ma di come parla, sa? Questa signora è mia moglie. Ma io non dico questa, dico quell'altra che è una stronza. E' mia sorella. E che colpa mia se l'hai imparattato con tutte le stronze di Milano? Poi mi hanno dato un'altra medaglia perché ho risolto il delitto al ristorante cinese. Tu fai la collezione di Franco Bolli. E io ti ho dato una collezione di schiaffi se non mi dice la verità. Stavolta vediamo se ci riesco. Vabbè, ve ne faccio vedere solo un pezzetto. Quante volte coi pensieri Ho scaramocchiato il cielo Quante volte l'ho pregato Incredibile ma vero Scendi! E perché? Perché i soldi li hai presi? Io non ho preso niente da nessuno, non me lo prende la parte. Armo! Oh! Ma avanti così Michelotti che non ti ha toccato per niente. Se non l'ha toccato per niente deve stare attento all'artino perché pensa che è lui che è mena. Allora, allora chi? Me riconosci o non me riconosci? Si ti riconosco me, Mimì, si ti riconosco me, Mimì, quale? Dimmi che muo, Mimì, ma... Per me tutto quello che decidi tu va bene. Non sta che ci sei tu. Se mi dici chi è stato lo faccio vendicare. Marcello è morto a causa mia. Io quello lo voglio sventrare, io capito? Sta buono. E se te vi un corpo non puoi far più niente. Ci penso io. Scendi! Alla setta, su, sbrigati! Sì! C'è chi è la luna, ma te lacrime e l'inchiostro, perché passo dopo passo, in mezzo le frustate dell'HM. Tiverà la mia fortuna, come una panerina sulle porte, poi ancora giorno dopo giorno. Ma rispetto, pure voi stavate nel giro, ma ricordate quando rubavate le macchine? Eravate il meglio di tutti. E chiudete l'occhio, no? Ma ti chiudo tutte e due. Oddio! Eccolo! Eccolo! Grazie.